Piano piano stiamo riassaporando la normalità. Tutto riapre. Il governatore del Veneto Zaia ha riferito che se tutto va bene a partire dal 3 giugno tutti potremo circolare all'aperto senza mascherina, dovendola utilizzare solo nei luoghi chiusi. Prevista addirittura l'apertura secondo la ministra della famiglia Elena Bonetti dei centri estivi dal 15 giugno. Nel frattempo a Vicenza assistiamo a scene di movida giovanile, di ragazzi che bevono spritz uno attaccato all'altro senza mascherina. L'amministrazione comunale reagisce quindi con un'ordinanza del 22 maggio con la quale viene vietato il consumo di alcolici in luoghi pubblici o da aperti al pubblico ad eccezione dell'interno dei locali o delle aree adibite a plateatico. Questo fino al 2 giugno compreso. Sanzioni per i transgressori da 400 euro a 3000 euro. Con la normalità si torna a parlare anche di altro. A tal proposito ha fatto scalpore la notizia di un ragazzo di 17 anni che vive a Vicenza con la sua famiglia, il quale ha denunciato ai carabinieri di essere stato bloccato da tre persone con il viso coperto da una maschera. Ciò sarebbe successo giovedì scorso a Vicenza in via Manzoni, vicino al liceo scientifico quadri. Sarebbe stato spinto per poi sfilargli dal suo zaino il portafoglio con dentro 120 euro. I tre sarebbero poi fuggiti a piedi. Per fortuna solo ferite superficiali per il ragazzo. Le forze dell'ordine stanno indagando e invitano chiunque avesse visto qualcosa ad informare la sede dei carabinieri di via Muccia. Ciao. Piano piano stiamo riassaporando la normalità.